Come voi sapete da molti anni ormai mi occupo di tutto quello che è il sociale a Bagheria, tutto quello che è la promozione del bello, della cultura e soprattutto del buonsenso. Da anni ormai con un gruppo di commercianti storici di Bagheria ci occupiamo un po' delle problematiche sia della produzione commerciale per i problemi che ci sono attorno all'attività commerciale ma soprattutto da anni ci occupiamo anche di quello che è la società. Come società io intendo comunità, la comunità deve essere unita a tutto quello che è, come dico io, il muoversi. Caratteristiche specifiche perché oggi il teatro è importante, la scuola è importante, lo sport è importante, tutto ciò ha sempre caratterizzato il mio accostarmi a queste attività, soprattutto il mio senso di appartenenza a tutto quello che è sociale. Chiunque di voi troverà in me la possibilità di tutto quello che è promozione. Comunque vada questa esperienza elettorale mi troverete sempre qui, il Corso Umberto perché è proprio da qui che sono andate le idee e che comunque resteranno sempre queste idee che noi abbiamo e soprattutto il nostro gruppo per una bagheria migliore. Con l'occasione vi auguro una buona e santa Pasqua a tutti voi. Grazie.